proviamo ciao ciao grazie di essere qui 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 oggi oggi facciamo qualcosa di diverso perché proviamo insieme questi macarons di gusti differenti abbiamo vi leggo vado a leggere i gusti perché non mi ricordo allora abbiamo crema con biscotti al cacao sprecciolati sopra questo qui vedete ci sono c'è qualche biscotto sprecciolato sopra ma molto poco devo dire abbiamo poi cannella non ne ho idea penso sia questo con un po' di tipo decorazioni sopra questo penso sia cannella banana banana e cioccolato anche qui non ne ho idea forse questo che sembra tipo un ringo direi che questo è banana e cioccolato non ne ho idea non ne ho idea non ne ho idea non ne ho idea di quale sia e formaggio fresco spalmabile o mirtilli direi che noi abbiamo mirtilli perché questo è decisamente dentro non so se vediate appunto la cosa viola il che non ci fa capire che cosa sia questo questo rosso che io ho convinto fosse lamponi in realtà a quanto pare lamponi non è non saprei vedremo lamponi fragole non so ok e accompagniamo il tutto da un macialatte che è una mia specialità guardate che bello questo bicchiere faccio sentire il suono la schiumetta del macio sotto quando c'è Amiche non so cosa stia facendo esattamente non lo so ok adoro tantissimo il colore del macio e questo appunto è un macialatte quindi polvere di macia e poi l'ho mescolata con del latte vegetale fin qui andiamo ad assaggiare prima questo buono se non avete mai assaggiato il macio non so bene come descrivervelo perché ha un gusto molto particolare ricordo un po' il tè verde ma a me ricorda anche un po' il cacao però veramente ha un gusto a sé è come dire di cosa sa che ne so un lampone di cosa sa non so cosa si la pone o di cosa sa il pistacchio buono vi faccio vedere anche che mazzo ha usato questo di questa marca qui se volete vi lascio il link in descrizione è la prima volta che lo provo perché avevo solo provato un'altra marca però ho finito quindi volevo un attimo sperimentare ok cominciamo subito con questo heating io ho scelto proprio i macarons perché secondo me fanno un suono stupendo io partirei con questo che immagino sia cannella che non penso sarà il mio preferito non so perché ma veramente non so se ne prima è proprio la la sensazione il croccante poi magari ho scolciato dentro la perfezione queste comunque sono macarons della Lidl quindi non ho spettative altissime ok proviamo sa di banana ve lo faccio vedere dentro non saprei onestamente non sa di molto sa di dolce per onestamente ah no penso sia mela caramellata direi che questo era mela caramellata non riesco a capire se è mela o cannella perché a volte ho fatto mela con cannella quindi non so bene distinguerli così già nei dolci ma andiamo avanti assaggiamo questi rossi assaggiamo questi rossi così ci togliamo ci togliamo la curiosità e proviamo a capire cosa sia ok ma è troppo in parola ma è troppo in parola 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 non sanno di frutta vero non vorrei dire ma sull'etichetta c'era scritto che c'era un sapore al formaggio fresco spalmabile raga secondo me questo sa di formaggio ve lo giuro ve lo giuro anche perché non può essere altro ma perché rossa non 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 è non ma non non ma secondo me sapeva di formaggio spormobile non sono di pasticcina quindi però mi aspettavo fosse così difficile capire ok adesso proviamo questi con appunto il viola dentro quindi opterai per mirtilli ma non si sa mai magari è cioccolato dentro no penso sia mirtilli questo effettivamente è odora di mirtilli io posso vedere dentro la pasta carino dentro ok ah si io in questi video mangio bocca aperta non perché abbia l'abitudine di mangiare bocca aperta ma perché trovo che il suono sia molto più bello ok si è mirtillo no mi piace sa di chimicissimo devo dire che sono veramente molto molto dolci forse li avrebbero potuti prendere in pasticceria ma vabbè va bene va bene va bene adesso assaggiamo questi con questi cookies sopra dopo facciamo pausa anzi prima facciamo pausa pausa ma ciao la facciamo pausa comunque questi biscotti li trovate se volete provarli li trovate secondo me fino al 30 giugno forse anche un po' di più, probabilmente un po' di più alla Lidl sono solo già detto quindi non dico tra l'altro mi piace tantissimo il setup di questo video con l'alcopalino lì anche se non si vedono benissimo i colori perché è veramente troppo troppo luminoso ovviamente in fotocamera, nella vitavira si vedono perfettamente ma in fotocamera non rende molto non capisco perché e il diffusore è carinissimo poi ho messo tutte delle luci colorate, blu carino, secondo me è carino lo sfondo mi dà molto l'idea quasi di una live non lo so, carino molto cosi questo setup infatti mi sto rilassando un casino giro di questo video se volete per lasciare un commentino dimmi qual è il vostro dolce preferito in assoluto io veramente secondo me se tu mi fai dei macaron congelato dei macaron di alta qualità congelato e la cosa c'è penso possa essere magari al cioccolato o al caramello salato o al pistacchio penso possa essere il mio dolce preferito non vedo cosa potrebbe piacermi di più alla nozzola direi questo poi lo sapete ci sono i moci che avevamo provato l'anno scorso però veramente non sono per cioè mi piacciono torte, biscotti eccetera ma mi è il macaron col gelato o il gelato in generale la focaccina col gelato troppo buono ditemi qua nei commenti qual è il vostro dolce preferito oddio continuiamo questo con i cookies allora l'odore non si capisce potrebbe essere il gusto crema vado ve l'avrò tagliato però c'è un amico che ha abbaiato mi ha fatto prendere un crepo perché per quello così sente tutto centovila volte di più comunque l'ho assaggiato ma non ho capito il gusto perché nel mentre mi sono spaventata buono secondo me la crema dire che sapeva di crema è un attimino esagerato però buono ne mancano due i due bicolor voi quale scegliereste prima? questo verde questo marrone allora sono indecisa direi prima quello verde perché questo marrone dentro tu puoi avere il cioccolato ok che carino carino io adoro questo verde che poi è lo stesso verde del magio fondamentalmente carino 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 e posso ne metta a fuoco ok bello questo verde lo faccio vedere bene adesso lo faccio vedere anche all'interno prima andiamo a morso sento che è buono ma non capisco assolutamente cosa sia o è questa mira caramellata l'altra è una cannella a questo punto vi faccio vedere dentro ecco qui andete questa cremina penso sia mela a questo punto è verde perché mela verde non saprei tra l'altro io speravo che verde volesse dire pistacchio ma si vede che è un gusto troppo costoso da fare troppo costoso da fare costoso da fare anche questo era buono anche questo era buono, sì non ci resta che a quanto pare il banana e il cioccolato da una parte secondo me sarà buono perché il cioccolato ma giuro si sa di chimico di banana e invece mi farà schifo quindi chi lo sa, vediamo provo a fare una cosa ok, a questo punto del video si aprono le scommesse visto che il banana e il cioccolato sarà buono o farà orrore può essere o buono o farà orrore ok allo non fa orrore 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 direi che è buono, no? sa tanto di banana non sa praticamente il cioccolato, sa tanto di banana quindi prendo solo un altro pezzettino e poi basta perché non è che mi piace troppo la banana come nei dolci poi anzi sapete cosa faccio? prendo la parte più scottosa posta o la parte più scottosa, non cioccolato? o la parte più scottosa e i ? no perché l'ho lasciato per ultimo ho sbagliato a lasciarlo per ultimo cavolo comunque spero che questo video molto molto semplice di hitting sound vi sia piaciuto adesso prendiamo un altro sorso di magia tra l'altro la mattina bevo il magio al posto del caffè mi bevo il caffè una volta al giorno il magio una volta al giorno l'estate, l'inverno più un tè il caffè o una tisana però state attenti a non abusarne perché appunto il magio è tipo il tè nel senso che contiene non so se caffeina o tè però insomma sostanze che tengono svegli non so se ok quindi spero davvero che questo video veramente molto semplice vi sia piaciuto sapete che mi piace alternare i video un po' più impostati con video un pochino più tranquilli e visto che erano scorso il video con i mochi vi è piaciuto tanto spero che in questo video di assaggio di macaron vi piaccia lo so appunto mi ispirava a farlo quindi io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'ora ti 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 a abbassare ti 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 le luci ti 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 e augurarvi augurarti augurare a te una buona buonanotte buonanotte sogni d'oro buonanotte buonanotte i miei piccoli magros al pistacchio un bacione che li spera? buonanotte buonanotte buonanotte